Oh, che cuciniamo stasera? Sai quando ci voglia di fare una pere di u, di stuzzica che cosa? Quello non mi va, quell'altro non mi va. Fate tu un cracker, te li faccio fare io. Cracker, aglio e rosmarino. 200 g di farina 00. 100 ml d'acqua. Olio a filo, con da fine a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rosmarino secco, aglio in bollere. Smucinare. Orco. Quando il panetto è liscio lo lasciamo riposare 20 minuti in frigo. Prendiamo un cucchiaino con un fiorellino dall'altro lato. Due cucchiaini di sale. Olio, schizzando tutto fuori mi raccomando. Giù, 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 basta. E mescoliamo. Panetto, dividiamo in quattro. Pazzicchiaino di farina sotto e sopra. Stendiamo. Rasagnolo. E stendiamo. E' quasi trasparente. La tagliamo. Coppa pasta, formina. Mettiamo in friggitrice ad aria e spennelliamo con il nostro olio e sale. Per evitare che la carta forno si sollevi durante la cottura mettiamo una tazzina da caffè appoggiata. Friggitrice ad aria a 200 gradi, 8 minuti. Cracker, aglio e rosmarino. Buon aperitino. Facciale.